Un incendio divampato questa sera, giovedì 13 settembre, intorno alle 18.30, in via Carlo Dalleri, angolo via Villa, Rattorino. Le fiamme hanno avvolto la copertura di una palazzina a cinque piani. Il condominio è stato prontamente evacuato. Sul posto stanno operando diverse squadre e autobotti dei vigili del fuoco di Torino, due autoscale, carro a fiamma, 118 polizia locale e carabinieri. Pare che il rogo sia scaturito dal tetto. Al momento il bilancio è di un ferito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.